La composizione del gruppo, inizialmente costituito da cinque elementi, ha subito delle modifiche nel corso degli oltre 50 anni di storia, anche se la formazione con la quale i Poo hanno conosciuto i loro maggiori successi, tra cui la vittoria al quarantesimo festival di Sanremo, è stata quella composta stabilmente per 36 anni, dal 1973 al 2009, da Roby Facchinetti, Tastiera, Dodi Battaglia, Chitarra, Red Canzian, Basso e Stefano Dorazio. Batteria. Occasionalmente, flauto. Punto. Oggi Facchinetti è tornato a condividere, con i fan una notizia dolorosissima, quella del decesso improvviso di una persona altrettanto importante per la band bolognese, lasciando tutti coloro che seguono il gruppo letteralmente senza parole. Dopo la morte dell'amico fraterno Stefano Dorazio, storico batterista dei Poo, Roby Facchinetti, sui suoi canali social, ha pubblicato Tempo fa uno scatto di lui insieme all'uomo che è stato dietro al gruppo per ben 25 anni, accompagnato da una dedica che ha commosso tutti. Sei stato per 25 anni un collaboratore, ma soprattutto amico di noi Poo. Prezioso e indispensabile, con una generosità infinita.